e ciao a tutti ragazze e ragazzi oggi faremo un nuovo video di brawl stars allora oggi e su questi video di brawl stars vi faremo vedere come faremo un video su brawl stars come abbiamo già detto che giocheremo in compagnia di giulio ciao a tutti ragazzi è antonio massaro che è il mio cugino esatto e andatelo a seguire su tiktok che si chiama antonio bimbo 1 si ok inizieremo a giocare a raffa gemme ok io sono pam io sono pogio perché con pogio non so perché ma mi trovo benissimo allora vediamo che brawler consiglio brawler che stiamo consigliendo i brawler antonio allora antonio mettiti rosa antonio mettiti rosa e salute il canale vi saluta eh ok antonio mettiti rosa mettiti rosa un po il brawler questa questa qua che ti sto dicendo vai vai ok io metto pronto vai metti pronto antonio ok speriamo di vincere si speriamo comunque non giudicate se guardiamo perché una cosa va che si promuovetevi e vabbè che bella la mia connessione si è tutta l'inizio mamma raga a me non va internet e non ti ammelo e poi giocare con la connessione che mi fa cresciti ok ok ora ok ora mi funziona arrivo arrivo c'è una gemma e vabbè stiamo impiegando da schifo scusate c'è ma anche perché è la nostra prima partita ah e niente scusate c'è chiamo delle pippe però è la nostra prima partita ah mio cugino non si trova ragazzi con me in brawler quindi deve al cambiare brawler poi il comitale dai 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 vai 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 la rovescia! E niente, mi uccido, no! Dove state? E perché si mette la roba? E perché l'hai? Vabbè? Ma dove non mi fare? No! Porco mucato! Ecco, tutte queste caccelle bianne. Poi c'è miseria. Sì, vabbè, primavera. Sì, io mi sto proprio ferma perché tanto. No, ragà, io non sto bene con rosa. No, con panno. Con panno. Meno 5. No, pure io. Tu quanto hai avuto? Meno? Meno zero, sicuro. No, allora mi metto stecca. Io mi lascio, anzi, mi metto rosa, qua. Hello, 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 hello. Ma se lo mettete pronto? Ce l'ho in fronte, ce l'ho vedo qui. Vai, vai. Regà, scusateci perché abbiamo perso, ma la prima partita è sempre così. Sì. la connessione mi va a cacchetta. Eh, manco che a me mi vada bene. Oh, mamma mia. Scusate, ci lo fa. Vi rompo in quattro, in cinque, in sei. Stiamo pure emozionali, ma qui. Izzica questo. Li rompo, li rompo, li rompo, li rompo, li rompo, li rompo. Non è vero. Dai, 160 anni di vita è rimasto quello. Lo fa. Non è vero. 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 Eeeh, ti... a me è molto vero. Specialmente se ho la connessione che mi va a crescire. Oh, mamma. Quelli ti hanno messo le scopere, non è vero. Non è vero. Eh, ragà, scusate, se stiamo giocando così a schifo, però. Ma è l'emozione perché è è il nostro primo video esatto secondo è il nostro secondo video che gioca a me ok è il nostro primo video giu io son morta vai ce l'ha tutto il bombardino vai andiamo a me e mio cugino sono hanno parte no ok dopo mi metto 8 bit mi sto pure ferma tanto però io mi devo fare football 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 aspetta noi non mi arriendo facciamolo un'altra facciamolo un'altra dai comunque è ragazzo perché prendiamo una cosina di coppa 5-3 e io 5-8 cioè non so neanche quello che ho detto allora io mi metto 8 bit aspettate che a me mi viene da una cosa grande è una missione ok no dai facciamolo un'altra di raffagemma facciamolo un'altra di raffagemma però aspettate che io mi metto e mezzo di bombardino bombardino si bombardino ma c'è lo scartino quale bombardino quello super stelle ah no ti devi connetterlo eh per forse questo lo puoi mettere quello super stelle non mi piace anche perchè non te lo puoi mettere perchè ti devi connetterlo ok potresti mettere però ok potresti mettere però ok ok Antonio parla un po' che stiamo vedendo in video dai no connessione per favore eh si uff 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 poi 8 bit è lento manco che si fosse che gli sto mangi non mi piace no ma certo che 8 bit non lo potevano fare più lento comunque no no perché li sono andata addosso grande Giulia che cosa ho fatto hai ucciso come ho fatto eccolo 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho venite 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 sono morto venite ma non so cosa vuoi fare avevo pochissimo ok ho ucciso uno ce l'avevo tutte aspetta aspetta no porca mia terra le avevo tutte è una cosa impossibile vai Anto perché affronti gli altri sei l'unica speranza che ne ha di più te l'ho e niente e niente dai ok uff godo 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 come un riccio ma 8 bit è lento come lo schifo e un'altra volta si muore non ci posso credere non pensate a quella pensate più agli altri dai 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 niente perfa aspetta 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 e niente muoio niente e niente basta facciamo foto brawler si e no dobbiamo fare foto brawler foto brawler mi metto rosa mi metto foto brawler vediamo consiglia brawler ti consiglio no 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 Frank lo sapevo poi vediamo la mappa si Frank Frank è il piu' forte che a Fran Frank e Frank ragazzi allora ti consiglio di metterti ora ti consiglio di alla mia amica di metterti e il primo perchè in foot brawl c'è bisogno di tenti si metti al primo ok io vi dico non vi prometto spero lo faccio per il canale dobbiamo vincere io non gioco da un botto io non gioco da un botto voglio è bello morire ci hanno sbombato cazpita porco miseria la tiro via grande vai ali vai vai che uccide questo scemo vai andiamo bene vai Antonio vai che tu sempre a foot brawl sei bravo vieni ali vieni 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 giù poca vita ammazza tutti tanto però non ti rimanere fermo pure tu rimani fermo oh giu mio non ci devo mamma mia giù 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 è lì sto bloccando dai che segno dai che segno non segno non segno non segno 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 si 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 godo male godo come braccio caspita vai andò ah ma prendi la palla fai andare da lì cioè non prendere niente no 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 la prendere fai andare da lì cioè vai a lì che dov'è dai lanciarla a me lanciarla a me lanciarla a me lo sapevo io ma prendi sta palla e niente meno male che lo lanciarla a me tanto ce lo fanno ma non ho capito che sta a me tanto uccidi quello che ha la palla ma perché oggi la connessione mi va andò ai prendi uccidilo però almeno e non è pure a me però dai forse segno si a lì te l'ho ammazzati tutti vai lì sto conteglio sempre te lo prometto ferma godo ragà ve l'avevo detto io ve l'avevo detto ali gamer è stata la migliore comunque ragazzi prima di far vi dovevo far vedere questa cosa dovete per forza se volete potete entrare nel mio club che si chiama vai faglio a vedere la rosa si chiama la rosa e ci sono tanti componenti solo che allora aspetta questo club era entrata soltanto così siamo in tutto di forza siamo 15.984 84 ah no 84 84 no fuori mi diceva 84 boh ok vai quindi possiamo iniziare a giocare nuova footbrowl ok eccoci qua raga ve l'ho detto io e ve l'ho promesso non so perché non mi fanno non ti fa mettere pronto come mai ecco ecco e raga comunque io ve l'avevo promesso che per il canale lo facevo e l'ho fatto ragazzi ah comunque ragazzi scusateci se i commenti sono disattivati ma purtroppo sono disattivati dalla community non li abbiamo disattivati noi si scusateci comunque ragazzi vi voglio dire che ieri non abbiamo salutato purtroppo per per un problemino che ci ha dato per un problemino non abbiamo salutato scusateci ma scusateci tanto c'è lì c'è io ci credo in Alice ci credo vai vai Alice via che l'hai buttato all'oro? non l'ho buttato all'oro basta io mozzo questo aspetta 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 segno che grande comunque siamo forti e devo dire che siamo forti che io proteggo e Alice va a segnare vai proteggimi scusa 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 vai un po' cazzo ce la fanno ce la fanno no non ce la fanno non ce la fanno è tornato indietro quel nabbo stava tornando indietro quel nabbo questo è tutto il momento tutti sopra la porta hanno stati vai 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 godo vai vai andiamo a passare la delizie andiamo a passare la delizie tira la via tira la via aspetta che la prendo tira la via tira la via è una bocchina del naring sono morta sono morta scusate brutta porrmita porrmita io non capisco perché c'è Bea che rimane sempre a pochissima vita ma che Bea secondo me l'ha appena trovata perché scazza con un colpo neanche senza neanche senza questo dai ma no ma perché uccidi Bea uccidi Bea uccidila uccidi Beatrice bravo grande è grande va beh dai ysosta bravo che hai cacciato la palla vai 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 vabbè dobbiamo sopravvivere che sono fra 20 secondi non ce lo facciamo no però dai è uno se facciamo un altro punto ma ci sono supplementari cioè forse non lo so ecco supplementari la tiro via la tiro via niente vabbè almeno non abbiamo vinto facciamo ricercati vai ricercati ve lo dico sono brava io mi metto sempre lo stesso però che sicuro che lo conosciano bene mi sto incavolando incavolando raga siamo a 15 minuti di registrazione anzi 16 minuti di registrazione quindi penso questa partita e poi il video finisce perché quando ne faremo un altro poi come te io mamma mia mamma mia marcello grande lì abbiamo preso tre punti non è il mazzo questo è il mazzo e io non è il mazzo io eccola 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 ecco la mia super vai grande oh oh mi sono no devo scappare giù non lo sapevo io e giù che ci posso fare non te la conto non te la conto non te la conto non te la conto ma io ora vengo giù uccidi la torretta che ha poca vita mi hanno ucciso non lo stanno recuperando di un punto però non lo recuperano non ti scemo sta torretta qua è niente che è morta almeno ho fatto pure la torretta che mi stava dando inca dentro ma perché mi hanno dentro le cose allora io e niente ehi ma ciao e niente ma domani ma che la torretta mi da facilissima ora io vado di dietro piano piano ma lì ma lì eccoli eccoli vedi 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 dove sto vedi dove sto vedi brava grande ma ciao vedi ah lì abbiamo recuperato no mi credo è morta gli ho fatto recuperare non lo capo vai lì ah sicuramente no meglio che non ci credi ma e niente ho perso muovete dai un po dopo di questa basta allora ragazzi e se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per vedere tutti i nostri video e ciao e vi auguro una buonissima giornata ciao 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 ciao